Dopo il fatto che abbiamo visto che la tossina è sicura, è un farmaco sicuro, abbiamo visto che dipende dal medico, ora l'ultima vera novità è come fare a far sentire meno dolore al paziente. In questo caso l'industria ha creato proprio in quest'ultimo anno un nuovo tipo di ago, assolutamente indolore. Questo è l'ago, si chiama Invisible Needle, è un ago che praticamente è il più piccolo al mondo e che crea praticamente una diminuzione del dolore molto molto importante e una diminuzione del sanguinamento. Un ago che proprio per la sua importanza è stato recentemente premiato come una delle maggiori invenzioni del mercato del 2016 in un importante congresso internazionale. Perché quindi un ago sottile? Perché praticamente attraverso questo ago diminuirà tantissimo il dolore dell'iniezione e quindi avrete un miglior comfort nel trattamento della tossina botulinica. Oltretutto, essendo l'ago molto sottile, diminuisce il rischio di sanguinamento e in questo modo avete molto meno rischio di avere dei piccoli ematomi, delle piccole problematiche che possono poi darvi qualche problema nei giorni successivi. Quindi sostanzialmente questa è un'altra vera rivoluzione, degli aghi sottilissimi per darvi il miglior comfort e per darvi il miglior trattamento possibile con il miglior risultato per la vostra regione frontale.